Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere il problema riguardo all'aggiornamento di java ovviamente se hai problemi ad aggiornarlo possiamo reinstallare di nuovo java quindi o andiamo sul pannello di controllo java quindi scrivi qua sopra java, configura java, vai su aggiorna e lo aggiorni ora se non dovesse andare possiamo direttamente reinstallare java sul sito ufficiale che ti ho lasciato in descrizione quindi download java per tutti i sistemi quindi in questo caso se hai windows per windows, mac, linux, solaris e quindi io ovviamente scarico e installo il windows non in linea 64 bit per capire che tipo di sistema operativo hai vai direttamente sul tasto destro qua sopra vai su sistema e troverai tipo di processore 64 bit proprio sul tuo sistema qui tipo sistema, sistema operativo 64 bit processore basato per 64 quindi io adesso vado a scaricare questo scarico e installo l'ultima versione del 24 di gennaio mi sembra che quello del 16 gennaio 2024 quindi java 64 bit per windows clicco sopra lo scarico e lo installo modifica cartella di destinazione installa in nel programma dove tengo nel disco dove tengo il windows il mio sistema operativo faccio avanti installazione di java è stata completata quindi in questo caso per completare del tutto l'operazione di java chiudi qua e riavvia il tuo sistema operativo se hai altri problemi con java commenta sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao